Le previsioni meteo di venerdì 19 maggio. Al nord arriva una perturbazione dalla Francia con rovesce temporali diffusi. Forti nubi fragge grandinate tra nord del Piemonte, centro-nord della Lombardia, Trentino e centro-nord del Veneto. Al centro qualche temporale pomeridiano sull'Alta Toscana, sole prevalente altrove. Al sud soleggiato ovunque, venti deboli da nord-nordest, mari poco mossi, temperature in aumento al sud.